5 curiosità su Undertale che forse non saprete Undertale è stato votato come il ventesimo migliore gioco di tutti i tempi da IGN e da altre testate giornalistiche videoludiche Il tema musicale principale di Undertale deriva da un altro videogioco che però non è mai uscito dai confini giapponesi quindi nel resto del mondo è sconosciuto Tenendo conto di ogni singola variazione nei tre percorsi principali Neutral, Pacifist, Genocide In tutto i finali di Undertale sono 93 Il titolo originale del gioco sarebbe dovuto essere The Halloween Hack of Earthbound Esiste un boss segreto chiamato So Sorry Incontrabile solo se si leggerà l'insegna dell'Art Club nelle Hotland il 10 ottobre alle 20.00 in punto Scrivetemi nei commenti se anche voi conoscevate queste